Ma bella ragazzi e bentornati su un nuovo video Ma quando fai 7 dollari in un mese fuori di test Oggi vi mostrerò come scaricare, come creare una intro con un semplice sito Quindi detto questo andiamo al video Ok ragazzi appunto aprite Google Chrome o qualsiasi motore di ricerca Perché non lo mangia neanche un calabrese E appunto scrivete Panzoid Inviate, cliccate sul Primer Link Sul Primer Link che è il italiano perfetto Questa è la famiglia di patata E cliccate su Clipmaker 2 Ovviamente si apriranno 800 miliardi di pagine E lo credo bene E appunto si aprirà questa pagina Voi cliccate su un intro che volete in questo caso scelgo questa E appunto aspettiamo il caricamento della intro Abbiamo noi almeno ventina di tipi di mango A questo punto per vederla se ci piace o se non ci piace Clicchiamo sull'occhio E facciamo play Se ci avete fatto caso questa è la intro che appunto uso io Allora per modificarle e mettere il vostro nome Dovete andare su questo cubetto Ok? E su Text Qua dovrete scrivere il vostro nome Ok? E qua su Altezza dovete mettere 15 E qua 5 Ok? Poi lo fate anche qua Mettete il vostro nome E qua mettete 15 E lasciate 5 Fate play E se appunto non si vedrà tutto il nome Basta che qua Mettete tipo 12 Ok? E lo mettete anche di qua E a questo punto si vedrà Il vostro nome intero Sono sicuro Ti piacerebbe avere 50 euro Per scaricarla andate su Il segno di download Ok? Qua invece di 65 megabyte Mettete 25 E fate start video render Una volta finito Vi usciranno due scritte Download video Oppure return to editing Basterà che voi cliccate su download E vi scaricherà il video Potete crederci? Oh, sono ancora in stato di shock Quindi ragazzi Questo è tutto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi E noi ci becchiamo in un prossimo video